credo che si siano raggiunti grandi risultati da qualche giorno nel parco 2 giugno ci sono poliziotti in borghese e alcuni ragazzini sono stati individuati il prefetto vuole incontrarci scrive così su facebook la donna promotrice del gruppo social bully stop che è nato a seguito delle ripetute aggressioni a minoregne all'interno del parco ha già raccolto 240 iscritti almeno 5 gli episodi accertati dalla polizia dove adolescenti sarebbero stati affrontati e picchiati da un gruppo di ragazzi alcuni anche maggiorenni per farsi consegnare soldi e cellulare un servizio di pattugliamento nella zona parco è stato disposto dal questore di bari giuseppe bisogno in campo anche agenti della polizia locale ma l'attenzione delle forze dell'ordine non si concentra soltanto sulla zona del parco 2 giugno episodi analoghi si sarebbero verificati anche nel quartiere murattiano e a bari vecchia ragazzini costretti a rifugiarsi nei negozi o nei vicoli per sfuggire alle imboscate dei loro coetanei tutti tra i 14 e 16 anni con l'obiettivo di rapinarli del cellulare o semplicemente per aggredirli fisicamente in questo caso polizia e carabinieri avrebbero già identificato i responsabili segnalati alla procura minorile intanto le segnalazioni si moltiplicano sulla pagina del sindaco dove i cittadini chiedono a decaro un intervento immediato l'invito da parte del comune denunciare denunce formali e non sui social l'unico modo per aprire un'indagine fondata e fermare i responsabili